E' sul voto di fiducia che dobbiamo sconfiggere lo Berlusconi, non sul provvedimento che interessano i cittadini. Il giorno che troveremo 316 parlamentari in grado di sconfiggere lo dobbiamo andare a casa, non giocando sulla pelle dei cittadini. Questa non è stata una bella pagina di opposizione, ma di un'opposizione strumentale e paziosa, a cui io non intendo assolutamente contribuire. Grazie.